Oggi vi proponiamo un video estremamente affascinante. Abbiamo catturato alcune creature in situazioni davvero sorprendenti, per la loro eccessiva crescita. Da un canguro più forte di Arnold Schwarzenegger a un leone che supera le dimensioni di un auto. Stai per intraprendere un viaggio emozionante. Iniziamo. Cigni, i cigni sono belli, belli e possono anche essere animali spaventosi. Dai un'occhiata a questo gigantesco parco per cani. Anche se questo cane è di buone dimensioni, da vicino questo cigno sembra un chihuahua. Le dimensioni di questo uccello possono arrivare fino al metro e ottanta centimetri. E sebbene siano generalmente innocui, possono essere molto protettivi quando si tratta di prendersi cura dei loro piccoli, attaccando qualsiasi specie che si avvicina a loro. Numero 2, un elefante marino senza pretese. A questo elefante marino sembra non piacere affatto. Guarda come reagisce quando è di fronte a lui. Le sue due tonnellate di peso sono sufficienti per distruggere qualsiasi macchina. Anche se in realtà per lui è solo un gioco. Ma non è solo il proprietario del trasporto terrestre, gli piace anche prendere il sole su uno yacht di lusso. Numero 3, coccodrillo. Con una lunghezza di 5,5 metri, è il più grande coccodrillo nato al mondo. Ma anche questo rispetto al più grande coccodrillo mai trovato dall'uomo, il famoso Long Long, che era alto 6 metri e 17 pollici e pesava 175 chilogrammi. Ci sono volute centinaia di persone nell'arco di tre settimane per trascinarlo e portarlo sulla terraferma. Sebbene fosse sempre felice nella foresta, le sue azioni lo portarono ad andare in prigione a causa della misteriosa scomparsa di pescatori nella zona in cui viveva. Numero 4, canguro muscoloso. Se dovessi affrontare questo canguro, scapperei sicuramente. Sembra che questi animali trascorrano ore in palestra, ma la verità è che possono naturalmente sviluppare fino al 50% del loro peso corporeo in muscoli. In media, gli adulti pesano 90 chilogrammi. Ora pensa a tutto il potere che hanno in una gamba. Numero 5, un cindiale gigante. Cos'è questo animale trovato in Argentina? Si tratta di un cinghiale che pesa non meno di 240 chilogrammi ed è considerato il più grande, cinghiale del mondo per le sue dimensioni. Questi animali raramente si avventurano fuori dal loro habitat, ma a volte visitano aree abitate da persone. Ad esempio, questo è stato catturato a Hong Kong mentre cercava cibo nella spazzatura e lo chiamavano affettuosamente pizzilla. Numero 6, il colossale felino. Accanto a questo gigantesco leone, anche un'auto sembra una miniatura. Questo animale pesa 300 chilogrammi ed è alto circa 2 metri. Questi leoni possono consumare fino a 2 tonnellate e mezzo di carne ogni anno, consentendo loro di raggiungere dimensioni così impressionanti. Certamente non vorrei essere dentro quella macchina in quel momento. Numero 7, una tartaruga colossale. Sulla riva del paradiso, i visitatori incontrano una creatura meravigliosa. Non è un video falso, questa tartaruga è reale ed è la più grande del mondo. La tartaruga liuto misura 3 metri di lunghezza e pesa circa 800 chilogrammi, sorprendendo chiunque la veda. Sebbene le loro dimensioni e il becco affilato possano sembrare intimidatori, sono completamente innocui per l'uomo e si nutrono solo di meduse e un po' di alghe. Numero 8, il toro dalle lunghe corna. Immagina di essere in vacanza e di incontrare uno strano toro. Questo toro dalle lunghe corna appartiene alla razza Ancole Watusi e può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza con un peso di 700 chilogrammi. Le loro grandi corna sono davvero impressionanti, misurano fino a 3 metri di lunghezza. Nonostante il loro aspetto imponente, questi animali sono molto pacifici e non rappresentano alcun pericolo per l'uomo. Numero 9, il pipistrello gigante. I pipistrelli sono già abbastanza impressionanti, ma puoi immaginare di incontrare un pipistrello con un'apertura alare di un metro e 70 centimetri? Questi enormi pipistrelli appartengono alla specie delle volpi volanti filippine e sono esclusivi delle aree, boschive di questo paese. Anche se possono sembrare molto minacciosi, si nutrono solo di frutta e piante che crescono nella regione, quindi non rappresentano alcun tipo di rischio per l'uomo. Purtroppo però sono in pericolo a causa della perdita del loro habitat. Numero 10, il gigantesco ragno cacciatore. Immagina di tornare a casa e vedere questo panorama. Questo gigantesco ragno da caccia si distingue per le sue lunghe zampe ed è considerato uno dei ragni con le zampe, più lunghe del mondo, misurando fino a 30 centimetri. Anche se possono spaventare chiunque, in realtà sono innocui, picché non sono velenosi e non causano danni, anche se possono spaventare molto. Numero 11, un acce maestoso. Guarda come appare questa macchinina accanto a questo cervo. Questi animali sono tra i più grandi in natura, raggiungendo una lunghezza di 2,5 metri, un'altezza di 3 metri e un peso di 800 chilogrammi. Sebbene vivano in altre parti del mondo, le persone che vivono lì si sorprendono quando scelgono di passeggiare, sfoggiando le loro splendide corna, che li collocano tra i più grandi mammiferi. Numero 12, il caso sorprendente della mucca gigante. I contadini furono sorpresi nel vedere una mucca diversa dalle altre. A soli sette anni, questa mucca è alta più di 2 metri e pesa 1400 chilogrammi. La sua crescita gli ha salvato la vita, perché i suoi proprietari non lo sacrificheranno come il resto del bestiame. Ora, questa mucca di nome Nickel vive le sue giornate in compagnia degli altri animali della fattoria. Numero 13, il pollo gigante. È come una persona vestita da gallina, ma una gallina molto grande. I polli brama sono i rappresentanti più grandi di tutta la loro specie, raggiungendo dimensioni fino a un metro e venti centimetri. Ora confronta le sue dimensioni con la porta di un pollaio tradizionale. Senza dubbio, l'incredibile vista va contro le nostre aspettative. Numero 14, la maestosa tigre. Se la tigre e il leone sono già creature magnifiche di per sé, immagina un incrocio tra loro. In seguito all'incrocio con tigri e leoni, queste tigri possono raggiungere dimensioni enormi, fino a pesare 400 chilogrammi, perché non hanno il gene che le ferma. Tuttavia, è importante notare che attualmente esistono solo 20 tigri di questo tipo e la maggior parte di loro è in cattività. Numero 15, il cavallo gigante. Questo cavallo gigante è considerato il più grande del mondo, con un'altezza di 1,86 metri senza contare il collo e la testa. Ha sorpreso tutti con un peso di 1.100 chili. Il suo padrone, che lo conosceva quando era solo un puledro, non avrebbe mai pensato che sarebbe cresciuto così. Numero 16, la sanguisuga gigante dell'Amazzonia. Ironia della sorte, una volta si pensava estinto. Alla fine del XIX secolo, ma il destino volle che riemersero. In effetti, una di queste mostruose sanguisughe arrivò in una rinomata università, diventando oggetto di studi approfonditi. Chiamata Great Mamo che accompagnata dai suoi 750 discendenti, rivelò l'incredibile resistenza e tenacia di queste creature. Questi parassiti assetati di sangue incutono timore anche negli esploratori più coraggiosi. Questa creatura è mostruosa e può raggiungere una lunghezza sbalorditiva di 17,7 pollici con una larghezza fino a 4 pollici. Sì, hai capito bene. Queste anguille sono colossali e la loro dimensione da sola è sufficiente a farti rabbrividire. Ma non sono solo le loro dimensioni imponenti a rendere le sanguisughe giganti dell'Amazzonia una creatura temuta. Questi parassiti hanno perfezionato l'arte della sopravvivenza. attaccandosi alle vittime ignare e rifiutandosi di lasciarsi andare. La loro rimozione richiede una tecnica delicata e dispendiosa in termini di tempo, soprattutto quando si ha a che fare con sanguisughe di questa portata. Lottare per liberarsi dalla loro presa può essere un'esperienza angosciante. Affrontare questi colossali parassiti significa trovarsi faccia a faccia con una creatura che incarna davvero, l'espressione succhiatori della natura. Cosa ne pensate di questo video di creature gigantesche? Sicuramente non finiranno mai di sorprenderci. Non dimenticare di mettere mi piace al video, iscriverti al canale e condividerlo con tutti i tuoi amici amanti della natura. Ci vediamo nel prossimo video.